Sapete che vi dico? Io spero soltanto che Dio sia femmina e che quando voi maschi arrivate nell'aldilà vi faccia a tutti quanti un culo così! Ogni matrimonio si fonda sul tradimento Possibile che non sia mai caduta in tentazione? No! È una questione di forza e di volontà Quella è etero, si sono stato? No, quella lì è lesbica È etero? Lesbica! E se fosse bisexe? Ma che fai? C'è robina, sei scemo! Non sai che vi assomigliate tantissimo? Una schilista porco Tricchettona frigida Un uomo a 40 anni diventa interessante Una donna quando arriva il primo cappello bianco inizia l'inferno Magari ci sentiamo Anch'io ti amo Bessi Io penso che il tuo pisello sia andato in pensione anticipata Voi donne siete proprio superficiali Possibile che ci avete in mente solo quello? Punto primo Quando tradisci? È per una botta e via! Punto secondo Mai avere una storia con una donna che tua moglie conosce Cosa stavate parlando? Non succederà più Punto meno Sonia Avivo Capacino Car500 Sonia Con Con